Nicoletta Di Francesco, WWF Pescara Chieti, si parla ancora di Megalod 2 e del nuovo parere del via che ha detto ancora no al progetto di Megalod 2. Sì, in realtà il comitato via ieri non ha potuto far altro che ribadire il parere già confermato nel marzo 2017, cioè il parere di rigetto per quanto riguarda il progetto che era stato esaminato nel 2012 e che con il giudizio precedente era stato portato avanti. In realtà c'è stato un rigetto dal comitato via e ieri c'è stata solo una conferma che non poteva essere altro, infatti noi avevamo fatto una diffida ai comuni di Chieti e Cepagatti affinché annullassero il loro parere, il loro permesso di costruire perché in realtà non erano ormai decaduti con questa espressione proprio del comitato via. E a questo punto che cosa accadrà? Allora a questo punto noi non possiamo fare altro che attendere l'espressione del Tar che logicamente dovrebbe esserci una seduta nella quale noi saremo presenti perché ci siamo presentati ad opponendum a questo ricorso della ditta Sile. Sono in tanti a non volere questo progetto e a questo punto al di là anche del pronunciamento del via i lavori non partiranno? Sì, questo non possono partire, c'è stata proprio la conferma, dobbiamo dire che la diffida oltre alla Confesarcenti, al CNA e al WWF anche la Confcommercio ha aderito e quindi noi non possiamo fare altro che dire benvenga l'espressione della comunità, di tutta la città ma anche dei comuni limitrofi contro questo progetto perché è veramente devastante sotto tutti i punti di vista.